Grazie. 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 Buongiorno. Grandissima emozione. prima di iniziare volevamo fare dei ringraziamenti a voi che siete qui e al pubblico che ci segue da casa un grande ringraziamento alla casa editrice L'Asino d'Oro per la riedizione di questo importante volume grazie a Valentina Pasquazzi perché per noi è stato un riferimento preziosissimo e alla Mavi Video sia per le riprese sia per la diretta streaming e poi che dire questa libreria è uno spettacolo bellissima grazie di averci ospitati da parte mia un ultimo ringraziamento a loro le mie colleghe per i confronti continui che ci hanno portato a preparare questa giornata e ve le presento Diletta Di Cesare, psichiatra, psicoterapeuta Elena Masini, medico-chirurgo specializzanda in psichiatria io sono Cecilia Di Agostino, psichiatra e psicoterapeuta allora tocca a me iniziare e lo farei raccontandovi proprio di un nesso di un nesso che mi è venuto in mente nel momento in cui ho ricevuto la chiamata insomma la telefonata per partecipare a questa presentazione e il nesso era tra due date il 1996 e il 2022 1996 era da poco che io ero arrivata all'analisi collettiva e già a giugno del 1996 mi trovavo ad un convegno a Napoli per il 25esimo anniversario di Istinto di morte e conoscenza dal titolo Fantasia di sparizione, formazione dell'immagine e idea della cura ora, l'asino d'oro, grazie alla pubblicazione di queste lezioni è come se, appunto dal titolo Fantasia di sparizione è come se avesse steso in qualche modo un tappeto rosso in vista del cinquantesimo anniversario di Istinto di morte e conoscenza che si terrà al novembre quindi ecco, ci sono dei movimenti così irrazionali che io definisco geniali ora, il volume raccoglie le lezioni dello psichiatra e psicoterapeuta Massimo Fagioli all'Università di Chieti nel 2007 è l'ottavo libro di Fagioli e si tratta della seconda edizione che presenta un'importante innovazione rispetto alla prima in cui il linguaggio parlato era stato reso il linguaggio scritto mentre oggi, grazie a un sorprendente lavoro redazionale e questo è un motivo in più per ringraziare l'asino d'oro possiamo leggere l'originale linguaggio di Massimo Fagioli per chi non lo sapesse, Massimo Fagioli insegnò all'Università di Chieti dal 2002 al 2012 prima presso la Facoltà di Scienze Psicologiche e poi proprio nel 2007 presso la Facoltà di Scienze della Formazione portando avanti una ricerca unica sulla realtà umana e la caratteristica che contraddistingue proprio queste lezioni è il linguaggio semplice ed accessibile a tutti anche se descrive dei contenuti direi altamente scientifici sulla realtà umana e questo mi è stato confermato da diverse voci che mi hanno detto che lezioni 2007 è stato un libro fondamentale per comprendere la nascita umana mentre il primo libro di Massimo Fagioli Istinto di morte e conoscenza era risultato un po' troppo difficile e in effetti Istinto come testo fondante la teoria ha un linguaggio scritto molto specifico perché rivolto agli specialisti mentre qui come professore utilizzava un linguaggio parlato sempre il rapporto con gli studenti direi un rapporto profondamente umano e assolutamente particolare perché metteva in gioco anche durante la lezione la sua enorme sensibilità leggendo la lezione del 17 marzo possiamo renderci conto di quanto lui sentisse proprio certe dinamiche anche a distanza cioè anche dal pubblico e leggo queste lezioni sono particolari perché mi dite le cose facendomi provare delle sensazioni e oggi in particolare quando ho detto che la realtà fisica va sempre bene è successo qualcosa che non ha funzionato la verità è che qualcuno si è sentito abbandonato e Fagioli lo ha sentito quindi il linguaggio delle lezioni era semplice ma anche irrazionale perché senza schemi, senza scalette senza un pezzetto di carta sotto gli occhi un linguaggio che raccontava di un filo del pensiero preciso e allo stesso tempo disinvolto e che in tutte le lezioni non ha mai presentato una scucitura Massimo Fagioli riusciva a parlare anche per più di due ore così a braccio e mi ricordo che partiva sempre da un'argomentazione iniziale che poi riusciva a vestire come voleva lui allora per fare questo faceva dei voli pindarici toccando l'arte, la filosofia, la storia, la cultura ma anche aspetti della sua vita personale e alla fine, alla fine della lezione riusciva sempre a regalarci un mazzo di fiori tutti diversi tra loro ma tutti uniti da un nastro quello della conoscenza e quello della ricerca e un'altra cosa importante nel libro è questo continuo confronto tra il ricordo cosciente e la memoria inconscia e proprio nel volume Fagioli apre e chiude mille parentesi proprio per farcela capire bene questa differenza in cui il ricordo cosciente implica la percezione delle cose materiali quindi dopo ho messo il libro, dopo ho messo gli occhiali e la memoria inconscia che invece riguarda gli affetti i vissuti profondi e irrazionali dell'essere umano riguarda i sogni e il primo anno di vita del bambino perché entrambe le situazioni si caratterizzano per un pensiero per immagini che non è la fotografia della realtà ma l'elaborazione profonda e non cosciente dei vissuti affettivi è il linguaggio della fantasia molto diverso dal ricordo di una percezione e queste sono osservazioni importantissime per la conoscenza della vera identità umana che è quella irrazionale ed inconscia e l'autore nelle lezioni ci racconta del suo impegno continuo ed incessante contro una storia millenaria che ha sempre sostenuto il contrario ossia che l'identità umana è quella razionale della coscienza e del comportamento dalla lezione del 10 marzo quello che hanno sempre detto è che tutto ciò che non è ragione è animale ma non sarà il contrario cioè che una caratteristica esclusivamente umana è questo famoso inconscio da zumbevust o inconoscibile e questo inconoscibile grazie alla teoria della nascita ora non solo diventa conoscibile ma rappresenta il nucleo centrale dell'identità umana e anche nella lezione del 19 maggio il giorno del suo compleanno l'autore ritorna su questo discorso tra coscienza e irrazionale tra cosciente e non cosciente e ci racconta di alcuni filosofi che avevano affermato che sonno e morte erano la stessa cosa perché il pensiero della veglia spariva e per confutare queste idee assurde prendeva spunto dalla storia di suo fratello che andava a vedere se il più piccolo dormiva e poi tornava di corsa dicendo è vivo e utilizzava questo pezzo di vita personale per raccontarci un punto fondamentale della teoria ossia che durante il sonno con il sogno emerge un pensiero per immagini che non è quello della ragione cosciente diceva bisogna cercare un'altra realtà sviluppare un'identità non solo razionale ma anche irrazionale ed ecco qui la grande rivoluzione antropologica proposta dal nostro autore il bambino è un essere umano a tutti gli effetti proprio perché dotato di un suo pensiero e di una sua identità specifica irrazionale fin dalla nascita e questa è una scoperta rivoluzionaria perché come lui ripete spesso nella cultura da migliaia di anni c'è questo pensiero dominante il bambino non è identità umana lo diventerà solo alla comparsa della ragione adesso a te Diletta passo la parola il mio intento ora è di riportarvi alla mente quello che fu il 2007 quindi l'anno di queste elezioni e vi dico subito che è un anno che oggi sento davvero molto lontano non solo perché ovviamente come immagino sia ugualmente per voi la vita personale familiare professionale è cambiata completamente nell'arco di questi 15 anni ma anche perché per chi come me ha avuto a che fare con l'analisi collettiva e Massimo Fagioli di quegli anni sa bene che negli anni successivi tutto è stato diverso mai come prima talmente diverso che forse potremmo azzardare di dire che sembra essere una storia nuova e allora voi mi potreste dire ma che ce ne facciamo di un libro che è testimonianza proprio di quel 2007 e che ci avete detto essere il frutto di pensieri insorti nell'ambito di lezioni condotte all'università in rapporto con l'attualità la prassi politica la cultura di quell'anno allora proprio oggi questo noi vi vorremmo proporre nonostante sia un libro che è legato profondamente a quel 2007 è un libro che ha ancora molto da dire perché il frutto perché racchiude scusate una teoria sull'essere umano che possiamo definire universale sia nei contenuti che nel tempo appena mi è stato chiesto di presentare il libro oggi mi sono domandata ma cos'altro succedeva nel 2007 oltre queste lezioni a Chieti e pensando e studiando con meraviglia mi sono ricordata che proprio nel gennaio di quell'anno Massimo decise di fare una nuova edizione dei libri della teoria della nascita e quindi dopo 36 anni dalla prima edizione del primo libro Istinto di morte e conoscenza che vi ricordo fu pubblicato nel gennaio del 72 e gli venne l'idea di cambiare il colore delle copertine da azzurra a rosse e di rinnovare anche l'immagine di amore e psiche di Canova che era impressa su di esse prima c'era una psiche caduta nel sonno mortale avvolta tra le braccia di Cupido che la avvolgeva e la sorreggeva viene invece sostituita ad amore e psiche stanti in cui psiche ormai è una donna adulta che porge nella mano di un Cupido adolescente una farfalla ho cominciato a chiedermi come mai proprio nel 2007 Massimo decise di fare questo rinnovamento delle copertine mi è sembrato un movimento importante tanto che sono giorni che ce l'ho impresso nella mente e mi ha spinto a cercare che cosa nasconde di più nel profondo nel febbraio dell'anno prima quindi nel 2006 su invito del direttore della rivista Left Massimo cominciò a scrivere settimanalmente articoli nella rubrica trasformazione si rivolgeva a lettori alla cultura di sinistra come solo lui sapeva fare e cito dal primo articolo mi si chiede di esprimermi su libertà di ricerca pensiero religioso e rapporto con la politica il 16 febbraio 2007 arriva un altro fatto che mi ha colpito la rubrica del nostro autore venne improvvisamente ridotta da due pagine ad una pagina per imposizione del nuovo direttore un vetro comunista e immergendomi sempre di più nei ricordi ho ripensato al primo giugno 2007 le elezioni a Chieti erano finite ma ci fu un dibattito all'auditorium a Roma sulla cultura socialista tra l'allora presidente della Camera Fausto Bertinotti e i partecipanti dell'analisi collettiva che gli proponevano come fondamento dell'identità umana la ricerca sul pensiero irrazionale e sul non cosciente mentre giorni fa facevo tutti questi pensieri come sapete bene vivevo e vivevamo il turbamento delle elezioni politiche appena passate e forse proprio grazie a questo libro mi è venuta voglia di permettermi un sogno per alleviare i dolori che vivevo e tuttora viviamo per l'assenza di una sinistra che c'era presenti prepotentemente mi allora invaso il ricordo di un altro evento era novembre 2004 ci fu un incontro organizzato dalla libreria Amore e Psiche a Villa Piccolomini tra Bertinotti che allora era il segretario di rifondazione comunista e Pietro Ingrau figura storica del comunismo italiano con i partecipanti dell'analisi collettiva e il tema era la non violenza io andai e mi ricordo che mi ritrovai in mezzo a tantissima gente e tanti giovani mi ricordo domande che venivano poste ai due malcapitati assolutamente affascinanti è più violenta questa cultura che sostiene Freud che vuole insinuare nella mente di tutti che gli uomini sono naturalmente violenti o fagioli che dice che questa teoria di Freud è una grande truffa c'è più violenza nel provocare sofferenza fisica o nel voler distruggere la mente altrui mi colpì senza capirci molto allora la proposizione di un'immagine femminile di sinistra che non avendo paura dell'irrazionale consigliava di cercare una nuova identità non distruttiva senza scissione tra pensiero razionale e pensiero irrazionale cioè libera e creativa rifiutando completamente l'idea biblica di un uomo creato così com'è e che non può cambiare Bertinotti continuò dopo questo incontro a nutrire interesse per la psicologia del profondo colpito soprattutto dalla massa di giovani e immagino anche dalla loro intelligenza e così continua negli anni dopo per arrivare al nostro 2007 questa relazione tra la sinistra incarnata in Bertinotti e l'analisi collettiva fino al gennaio 2008 in cui in un tardo pomeriggio in occasione della proiezione di un film La signorina F di Wilma Labbate ci fu uno scambio sempre tra Bertinotti e l'analisi collettiva e lì un'immagine femminile nuova si presentava diversa da quella precedente del 2004 di cui vi ho accennato prima si era fatta adulta proprio come psiche delle copertine rosse era diversa anche da quella dell'auditorio di qualche mese prima era più matura e diceva fieramente di essere stata profondamente colpita da quanto si cercava di proporre in quel film un'immagine di donna realizzata socialmente e culturalmente che non voleva però rinunciare di vivere il sogno di un rapporto uomo-donna che fosse assolutamente libero e irrazionale i rapporti silenziosamente dopo quell'incontro si sono affievoliti e aprile 2008 lo ricorderete bene la sinistra con le elezioni visse una sconfitta storica ritrovandosi senza rappresentanti in Parlamento che cosa accadde? come mai questa grande sconfitta? e direi cosa succede ancora oggi? come mai questo silenzioso ma incisivo allontanamento possiamo pensare le due cose legate la sconfitta e l'allontanamento mi è ritornato in mente quanto vi dicevo all'inizio quelle copertine rosse non sarà che la sinistra non riesce ad accettare l'immagine femminile di quelle copertine? e perché non riesce ad accettare questa teoria non violenta sulla natura umana che ci vuole tutti uguali e a farla diventare una sua identità a questo punto mi viene in mente purtroppo questo momento storico che stiamo vivendo e per continuare il mio sogno che poi è un sogno di speranza soprattutto per le nuove nuovissime generazioni mi sono trovata obbligata a pensare che questa immagine femminile non si è affermata nel 2008 anzi è andata avanti si è fatta ancora più matura si è liberata una volta per tutte dalla depressione dal male incurabile e ha avuto il coraggio negli anni dopo di seguire un uomo ancora più coraggioso di lei che ha riformulato con parole nuove la teoria sulla realtà umana non so se vi sto riuscendo a rendere bene questo pensiero ma partiamo da un dato di fatto ora perché come vedete questo libro oggi non ha più quella copertina rossa ma ci è stato proposto dalla casa editrice con un disegno assolutamente particolare che esprime un pensiero profondo su cui io non so dirvi di più ma presto sentirete dalla mia giovane collega un pensiero brillante al riguardo mentre io vi voglio lasciare con quest'ultima proposizione noi farti di questa storia dobbiamo continuare a cercare un confronto sulla sinistra in qualche modo per proporre queste idee per dirgli che non si può ancora oggi avere paura del pensiero irrazionale ma che invece questa idea rivoluzionaria sulla mente umana potrebbe indicarci la strada giusta da seguire per attuare una politica sociale che miri alla realizzazione delle esigenze dell'uomo lasciandosi alle spalle il comunismo di Marx che ha fatto il suo tempo e il cattolicesimo che annulla una parte dell'umanità le donne e i bambini in quanto sarebbero esseri non razionali e ora vi lascio a Cecilia applausi applausi allora Diletta ci ha raccontato ha parlato di un pensiero universale e allora proverò a raccontarvi la forza e l'importanza della teoria della nascita che si basa su quei due termini o se vogliamo su quel termine unico del titolo di questo libro fantasia disparizione come emerge dalle diverse lezioni la realtà psichica ossia la nostra identità si forma alla nascita per una reazione biologica della sostanza cerebrale alla luce ora immaginiamo il bambino appena nato che si viene a trovare in un ambiente a lui sconosciuto la luce il freddo il rumore sono sicuramente stimoli troppo forti e aggressivi per lui ma allora che cosa accade? accade una doppia dinamica che è simultaneamente di non esistenza e di esistenza non esistenza il bambino chiude gli occhi e fa sparire quella realtà inanimata esistenza il bambino fa un'immagine una memoria che ovviamente non è cosciente della sensazione avuta sulla pelle quando era immerso nel liquido amniotico e quindi come dice Fagioli chi alla nascita abbia la possibilità di ricreare in immagine queste sensazioni assolutamente sì e questo processo di non esistenza e di esistenza è possibile grazie alla vitalità e cito testualmente c'è un tempo anche minimo tra pulsione e la formazione di qualche altra cosa che è l'immagine per la fusione con la vitalità si arriva così alla comparsa della prima immagine interna che pur essendo vaga e indefinita ha in sé una sensibilità intensa è questo il primo pensiero l'io del neonato la sua identità irrazionale ed è proprio la memoria della sensazione piacevole avuta che Fagioli chiama capacità di immaginare che porterà il bambino a cercare il rapporto interumano sicuro di ricevere calore e amore ecco è così che nasce la realtà psichica per tutti gli esseri umani e capire questa trasformazione che avviene alla nascita significa realizzare quella fusione tra realtà biologica e realtà mentale che fa la vita umana ora Elena ascoltiamo te allora sicuramente avrete capito quanto è fondamentale per tutta la ricerca e la teoria di Massimo Fagioli il concetto di fantasia e disparizione che dà il titolo al libro che presentiamo oggi quello che secondo me è importantissimo come anche mi ha fatto diciamo pensare Cecilia adesso è che in questo libro il concetto di fantasia e disparizione è legato in maniera indissolubile al concetto di trasformazione quindi oggi cercherò di approfondire un pochettino o comunque di dare degli spunti per capire meglio questo concetto appunto di trasformazione correlato alla fantasia e disparizione e diciamo per cercare di andare a comprendere sempre più a fondo quello che è il senso profondo della vita umana e anche le sue caratteristiche uniche e peculiari rispetto alle altre specie viventi e la prima trasformazione come ci ha detto Cecilia è quella della nascita dove la realtà biologica si trasforma in realtà umana questo Massimo lo scrive chiaramente in questo libro dice la dinamica della nascita è separazione e trasformazione quindi il bambino alla nascita si difende dal mondo circostante non umano facendolo appunto sparire simultaneamente a questo però avviene che il neonato immagina e cioè fa appunto la memoria fantasia della sensazione avuta dal contatto della propria pelle con il liquido amniotico e a tal proposito Massimo ci scrive da dove nasce questa fantasia del neonato con la nascita il neonato ha la possibilità di creare immagini dalla sensazione la capacità di immaginare nasce da questa sensibilità del corpo e pertanto il neonato e qui viene un po' il discorso sulla trasformazione trasforma diciamo la sensazione biologica in un'immagine e quindi nel pensiero cioè il pensiero nasce in questo istante come immagine di una sensazione e questa cosa è fondamentale perché facendo una capacità di immaginare di qualcosa che è prettamente biologico lo stesso neonato si rende conto di non essere un essere spirituale bensì di essere un essere biologico e questo poi sarà fondamentale per il rapporto a cui si indirizzerà che è un rapporto interumano sì con la natura umana dell'altra persona però è un rapporto prettamente fisico proprio per questa sua origine biologica e anche qui Massimo ci scrive pur avendo il pensiero il neonato è un essere biologico che quindi ha bisogno del rapporto fisico con la madre e ovviamente quando parliamo di sensazione del corpo come già ci hai accennato anche tu parliamo di una forza intrinseca del corpo bisogna fare accenno al concetto di vitalità che per come nasce si struttura anche essa ha a che fare comunque con una trasformazione di una realtà biologica questo Massimo ce l'ha sempre detto e la cosa diciamo specifica di questo libro è che Massimo lega il concetto di vitalità a quello di sensibilità effettivamente cioè lo lega al foglietto embrionale dell'ectoderma che è quello che poi darà vita anche alla sostanza cerebrale e alla pelle e quindi la vitalità è qualcosa che si deriva dalla biologia e su questo ci ha fatto tutta una ricerca che poi se vorrete potete approfondire però è quello che in sostanza consente al neonato poi di reagire allo stimolo luminoso e insieme fusa con la pulsione di fare la fantasia di sparizione e è vero che la vitalità nasce dal corpo quindi nasce comunque da qualcosa di biologico ha un'origine nel corpo però la cosa fondamentale anche per capire perché uno ci sia male la cosa che poi ci spiegherà di letto è che è vero che nasce dal corpo però poi diventa una caratteristica della realtà interna della persona la vitalità diventa una caratteristica del pensiero per cui se poi si perde ci si ammala e quindi insomma la fantasia di sparizione persa di vitalità poi causa la pulsione di annullamento che è la malattia ma questo ce lo spiegherà meglio di letto comunque per spiegare ancora meglio che cosa Massimo intende per il proprio concetto di trasformazione per come lo intende lui questo va un po' specificato perché lui dice che sicuramente la trasformazione non riguarda né una modificazione né un cambiamento dell'aspetto delle cose della forma delle cose legate appunto a un aspetto di spazio e di materia e infatti a questo proposito secondo me è giusto introdurre il concetto di tempo che Massimo affronta tantissimo in queste lezioni perché il concetto di tempo ci fa capire anche meglio cosa lui intende per trasformazione perché la trasformazione essendo legata al tempo è come se costituisse un divenire profondo della realtà umana un qualcosa di completamente diverso da prima quindi in realtà la trasformazione ha più a che fare con la creazione piuttosto che con la modificazione tanto è vero che la modificazione e il cambiamento che è quelle cose che avvengono nella vita intrauterina cioè quando il feto comunque cresce Massimo questa cosa la lega a un cambiamento cioè nello spazio quindi legata a un accrescimento cellulare nello spazio materialmente occupato dal feto invece la trasformazione è qualcosa di completamente differente perché è un divenire della realtà interna qualcosa di completamente diverso da prima e quindi è legata anche alla percezione soggettiva del tempo cioè al percepire un tempo interno e tutta la ricerca sul tempo in questo libro è molto presente cioè dalla prima all'ultima lezione tanto che nella prima lezione lui scrive la scoperta fondamentale è che invece ciò che caratterizza la mente umana è il tempo non è lo spazio anche qui quindi c'è la trasformazione da il feto dove c'era lo spazio e nell'essere umano dove c'è il tempo e poi nell'ultima lezione arriva a dire che la caratteristica umana è proprio il fatto di essere capaci di sentire il tempo cosa che è legata profondamente alla trasformazione di sé e del rapporto interumano quindi alla nascita quando in un istante la luce colpisce la retina si attiva la sostanza cerebrale nasce il pensiero come immagine di una sensazione il neonato realizza la sua identità di essere un essere biologico completamente nuovo quindi trasformato perché pensa per immagini sente il tempo che inizia in quel momento e si rivolge al rapporto con un altro essere umano grazie a tutti è giovane ma è espertissima allora io ora vi vorrei parlare di pulsioni di annullamento spero non me ne vogliate perché è un argomento sicuramente difficile e spinoso però vi confesso e ho scoperto di non essere l'unica tra l'altro che è un argomento che mi affascina molto e quindi abbiamo deciso di parlarvene ma anche soprattutto perché è più volte trattato dal nostro psichiatra in queste lezioni dove tra l'altro ci viene spiegata molto bene la sua distinzione con la fantasia di sparizione quindi la distinzione tra pulsione di annullamento e fantasia di sparizione e ci viene spiegato anche molto bene l'importanza di averla pensata questa distinzione lo spunto per iniziarne a parlare durante le lezioni Massimo l'ha avuto come al solito da un fatto che accadeva in quel periodo dell'anno non so se lo ricordate ma nel 2007 si stava svolgendo il processo di cogne la madre che aveva ucciso il figlio di tre anni nel 2002 e che per questo fu condannata come colpevole dai magistrati che la dichiararono lucida nella mente non malata e pertanto normale nel periodo del processo cogne l'attenzione mediatica per il fatto era altissima vi ricordate e le trasmissioni televisive se dedicate molte in una di queste a porta a porta il 4 aprile il giornalista dichiarò che per studiare tale delitto e forse per capirci qualcosa bisognava fare una ricerca sull'anaffettività e la connetteva in qualche modo alla lucidità diceva che l'anaffettività è dovuta alla pulsione di annullamento ora per cominciarvi a parlare di questo argomento che vi ho pronunciato a essere difficile voglio riprendere un attimo il concetto di pulsione quella fisiologica che si esprime diciamo nella fantasia di sparizione questa abbiamo detto che è un'attività dell'io che inizia alla nascita che ha un moto continuo e ci spinge sempre ad un fare ad essere continuamente in rapporto con il mondo in maniera attiva e trasformativa come appunto tipico della nostra natura umana e qui una prima distinzione che Massimo tiene a sottolineare sempre è con gli animali che vivono in maniera passiva perché loro hanno l'istinto che cos'è l'istinto? L'istinto è un comportamento predeterminato e immodificabile e infatti se ci pensiamo gli animali non hanno la scelta nella loro vita non è che una zanzara può scegliere di non fare la zanzara e quindi non ci pungiano i poveri esseri umani no che ne so non può decidere di vivere facendo il miele come le api la zanzara perché è scritto nel suo DNA il comportamento a cui è destinata purtroppo per lei mentre l'uomo ha la scelta perché non ha l'istinto ma ha la pulsione che ha questo movimento che dicevamo è un fare un'attività che va dall'interno verso l'esterno e chi conosce un po' di psichiatria o meglio di psicanalisi sa che la pulsione non è stata mai riconosciuta così ma è sempre stata confusa con l'istinto oppure è stata considerata da Freud sia essa di natura libidica o di morte come un pericolo interno da cui difendersi mai è stata presa in considerazione come una reazione ad un evento esterno che poi tra l'altro sarebbe un concetto molto più aderente alla biologia umana dove tutto ciò che accade è in reazione ad uno stimolo un'altra caratteristica umana che dobbiamo tenere presente è l'impotenza e l'inettitudine dell'essere umano alla nascita e nei primi anni di vita rispetto alla natura per cui noi esseri umani l'unica cosa a cui ci possiamo affidare completamente l'unica cosa a cui ci possiamo rivolgere è il rapporto interumano questo concetto lo teniamo a mente per dopo e un altro fenomeno caratteristico della nostra specie è proprio la pulsione di annullamento che vi sto cercando di spiegare allora cominciamo con il dire che questo è un fenomeno patologico che si mette in atto solo quando la mente si ammala e quindi si è una caratteristica umana ma non è detto che la facciano tutti gli esseri umani e come può insorgere la pulsione di annullamento riprendiamo quel concetto che vi ho detto poco fa quando nasce il neonato assolutamente bisogno di qualcuno che si prenda cura di lui perché si è vero che il neonato nasce da solo nel rapporto con la natura come ci hanno ben detto prima ma poi il neonato ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a crescere non può ad esempio procacciarsi il cibo da solo per cui si affida completamente ed è costretto affidarsi completamente delle persone che vivono e si occupano di lui purtroppo per fortuna le quali devono occuparsi del benessere del suo corpo quindi gli danno da mangiare pulendolo cambiandolo nei vestiti offrendogli un posto caldo e adeguato per farlo dormire e così ne favoriscono la crescita adeguata secondo le tabelle del peso e dell'altezza relativa all'età tanto care ai pediatri con cui torturano noi genitori quello che però i pediatri non dicono mai è che lo stesso vale anche per la mente anche la mente ha bisogno di ricevere risposte continue giorno dopo giorno che le permettono di crescere possiamo dire in maniera sana e robusta e quindi c'è questa richiesta continua del bambino di essere riconosciuto non solo nel corpo ma anche nella mente cioè con il suo pensiero e proprio perché è appena nato questo pensiero deve essere nutrito per svilupparsi in tutte le sue potenzialità con l'amore l'affetto con la presenza dell'altro che lo riconosce nelle sue emozioni anche senza che questo bambino parli se tutto ciò viene meno magari il neonato cresce molto bene con il corpo ma succede che piano piano a ogni separazione dal rapporto in cui ha vissuto questa delusione di essere stato lasciato da solo nella mente perde la speranza di trovare rapporto nell'altro e con essa perde piano piano la vitalità che invece alla nascita gli aveva permesso di fare il primo pensiero quindi perde la bussola di se stesso e la carica pulsionale che a questo punto non è più affiancata alla vitalità diventa annullante e si dirige verso l'umano verso l'animato per difendersi massimo parla di annullamento perché è una sparizione cioè la persona malata fa sparire quello che c'è la realtà umana dell'altro che lui non vede più e insieme fa sparire anche la sua di realtà umana e si perdono quindi gli affetti e si diventano affettivi quello che diceva Vespa il 4 aprile 2007 possiamo dire di più che la quantità di anaffettività va a modulare la potenza dell'annullamento e quando accade che l'anaffettività è tanta in termini di quantità si arriva a fare un annullamento totale dell'altro che non è più visto come persona ma come un oggetto e si può arrivare ad uccidere nella misura in cui quella persona è mossa solo da un pensiero razionale e lucido e di certo non possiamo dire che una persona normale compierebbe un gesto di tale ferocia essendo un'attività psichica bisogna tenere presente che non è che fa sparire davvero il corpo dell'altra persona ma fa sparire la parte psichica dell'essere umano o per meglio dire sparisce con la pulsione di annullamento nella mente di chi la fa la memoria di quel rapporto con l'altro la memoria di quel vissuto psichico avuto nel rapporto con l'altro e infatti chi si ammala in una coazione ripetere con la pulsione di annullamento è chi la fa non chi la subisce anche se come vi ho detto poco fa può far ammalare se rivolta a chi come il neonato per ovvie ragioni non la vede non la riconosce e non è in grado di difendersi insomma è tutto questo se vi ho incuriosito lo trovate approfondito e esposto in maniera affascinante nel libro a cui vi rimandiamo sempre e comunque ora vi lascio la bellezza dei discorsi delle mie colleghe applausi allora di letta ci ha parlato di come ci si ammala e ci ha fatto capire quanto già diciamo nella in tutta la psicopatologia diciamo delineata da Massimo Fagioli già all'interno di questo c'è insito il concetto di cura perché la malattia mentale deriva da una perdita di qualcosa e quindi già questo diciamo ci fa capire come all'interno diciamo di questa della patogenesi c'è già insito un concetto di cura e quindi diciamo tutto il nostro lavoro di psichiatri o di aspiranti tali come me si dovrebbe basare innanzitutto sul fatto di ritenere che la mente umana si possa curare e pertanto che comunque abbia una capacità di trasformarsi pertanto sempre seguendo il filo della trasformazione diciamo che il concetto di cura è strettamente legato al concetto di trasformazione della realtà interna per secondo quanto appunto aveva detto Massimo sul concetto di trasformazione per cui ovviamente però come si fa poi a trasformare una realtà umana quando ci si approccia diciamo a un paziente e anche questa volta secondo me dovremmo far diciamo riferimento al titolo di questo libro perché il concetto di cura della malattia mentale o comunque quantomeno di provare a modificare o trasformare uno stato psichico è possibile portando il paziente a far sparire le sue dinamiche interne o comunque degli affetti negativi per poi creare una situazione diversa da prima quindi la cura non è altro che separarsi da realtà interne malate facendole sparire per poi far riapparire grazie a questa capacità creativa che ha l'uomo perché ce l'ha sin dalla nascita una nuova realtà non solo privata delle dinamiche patologiche ma anche sempre più realizzata infatti in questa dinamica che poi si elabora nel rapporto con il terapeuta si ritrova poi quella vitalità che era stata persa con la pulsione di annullamento in un rapporto interumano patologico quindi da un rapporto sano si ritrova quello che era stato perduto in un rapporto patologico e questo è vero anche in tutta la vita cioè nel senso in tutti i rapporti della vita si può sempre grazie a questa trasformazione grazie alla continua possibilità di fare fantasia di sparizione di fare appunto un divenire diverso un divenire nuovo ci si può realizzare sempre più profondamente trovando sempre un po' più di vitalità anche in tutti i rapporti umani e ovviamente questo Massimo lo spiega bene nel libro anche in paragona alle malattie del corpo questa cosa è molto difficile perché la malattia era sempre stata legata a una lesione organica e diciamo questo era il concetto era che se non c'era una lesione non c'era la malattia e pertanto parlare di malattia della mente cioè parlare della malattia di qualcosa di invisibile di qualcosa che è legato a un pensiero irrazionale è sempre stato difficile in questa nostra cultura tanto che diciamo di irrazionale di pensiero irrazionale si sono occupati tutti tranne che i medici cioè gli psicologi i filosofi addirittura i preti ma i medici mai ma questo perché perché comunque la realtà irrazionale è stata sempre considerata qualcosa di spirituale e invece quello che ci dice questa teoria è che così non è cioè non è una cosa spirituale è una cosa che deriva dalla biologia è una cosa che ha prettamente a che fare con la medicina tutto questo ovviamente si fa in un rapporto umano quindi è ancora più difficile e questo è difficile da accettare tanto che Massimo ci scrive che quello che non riescono certamente ad accettare è che possa esistere l'attività di un essere umano su un altro essere umano che fa la cura che porta alla guarigione e pertanto il fatto che tutto il rapporto con il terapeuta che è sì un rapporto con la realtà interna del terapeuta ma passa per le parole l'interpretazione è il mezzo è quel mezzo che abbiamo per mettere in atto diciamo la trasformazione della realtà mentale in che modo facendo elaborare al paziente la fantasia di sparizione ovviamente tutto questo non toglie che in situazioni gravi o di emergenza si debba ricorrere all'uso di farmaci per frenare diciamo le situazioni acute ma questa cosa non è assolutamente in contraddizione con tutta la teoria diciamo della nascita e della fantasia di sparizione ora sia di Letta che Elena hanno ben evidenziato la portata rivoluzionaria di questa teoria che ci racconta della mente non cosciente e della sua fisiopatologia ma che propone anche come ho già detto prima e come abbiamo sentito un'idea nuova del bambino che nasce con un suo io con un suo pensiero per immagini che è identità umana si tratta di una teoria scientifica assolutamente unica rispetto alle altre teorie sullo sviluppo del bambino in occasione della presentazione della prima edizione fantasia di sparizione in un'intervista Massimo Fagioli disse il cardine sta nella storia e nel metodo infatti a seconda delle varie teorie sulla realtà psichica si avranno implicazioni diverse sulla considerazione del bambino sul suo sviluppo e sulla relazione che l'adulto può stabilire con lui e nelle lezioni Fagioli più volte ci parla della tragedia della teoria psicoanalitica infatti Freud definisce che il bambino nasce con un narcisismo primordiale e quindi incapace di fare rapporti umani ed anche con una sessualità polimorfa e perversa e un inconscio dominato da istinti animaleschi dopo di lui per la Klein il neonato nasce con immagini arcaiche fantasmi inconsci che proietta sulla madre distruggendola mi chiedo ma di cosa stiamo parlando date queste premesse teoriche ne consegue che il bambino porta in sé una una mostruosità una pericolosità per cui non ci si può affidare e allora può essere solo controllato represso castrato negli affetti e nelle emozioni causando così tanti danni nello sviluppo e nella salute mentale ricordiamoci sempre che la psicopatologia del bambino sarà poi quella dell'adolescente e poi quella appunto dell'adulto per darvi un'idea di tutto questo prendo in prestito una poesia del grande Gianni Rodari il bambino di gesso che ha una critica acuta a tutta quella cultura che non sopporta la vitalità dei bambini non correva non saltava pantaloni non strappava non diceva parolacce non faceva le boccacce ora grande è diventato compitissimo prudente ossequioso diligente dice grazie al superiore dice sempre sì signore ora questa visione così inquietante del bambino nel corso degli anni è andata migliorando perché ci sono stati diversi studi dalla teoria dell'attaccamento di bolbi intorno agli anni 50 fino all'infant research degli anni 70 che hanno riconosciuto al bambino una tendenza a cercare rapporto umano Stern ad esempio il massimo rappresentante di questo orientamento mette in evidenza che il bambino nasce proprio con una sintonizzazione affettiva ossia cerca rapporto umano e questi orientamenti in cui appunto non ci sono più quelle idee abberranti sul bambino hanno fornito un contributo fondamentale per guardare all'infanzia in modo totalmente diverso dal passato ed iniziano a diffondersi a macchia d'olio nella cultura esiste infatti una rivista molto valida scritta da specialisti dell'età evolutiva che si chiama Uppa e sicuramente molti genitori la conoscono in cui troviamo questi nuovi pensieri ad esempio il capriccio del bambino non è più espressione di una cattiveria o di un'impuntatura come se realmente il bambino nascesse proprio per far innervosire gli adulti ma si tratta invece di una situazione di sofferenza che andrebbe compresa da noi adulti per cui anche le punizioni o i ricatti che purtroppo vanno tanto di moda e anche nelle scuole sono assolutamente banditi e anti-educativi quindi sono studi che hanno evidenziato le splendide qualità del bambino attingendo però dalle relazioni coscienti ovvero registrando i comportamenti dell'adulto e le reazioni del bambino quindi offuscando tutta quella ricerca sulle dinamiche inconsce ripeto si tratta di innovazioni importanti che però a nostro avviso non sono sufficienti perché nessuna teoria sullo sviluppo e sulla natura umana ha mai avuto come ricerca la nascita della realtà mentale quindi questi studi seppur all'avanguardia mancano di una ricerca sulla nascita del pensiero umano e riconoscono come dotazione innata la tendenza del bambino a ricercare rapporti umani affettivi e allora ci si chiede ma questa dotazione innata a fare rapporto da dove deriva è qualcosa di ereditario genetico spirituale o divino e oggi abbiamo sentito più volte che la risposta scientifica ce la dà solo la teoria della nascita per la scoperta di un pensiero per immagini che è identità umana e deriva dalla biologia ora grazie al coraggio di Elena sentiremo delle cose molto interessanti applausi 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 e nel corso nel corso delle lezioni racchiuse appunto nel libro che presentiamo il concetto di fantasia di sparizione come trasformazione viene affrontato anche riguardo al passaggio dalla veglia al sonno e infatti la trasformazione del linguaggio articolato in linguaggio per immagini avviene proprio quando si passa dallo stato di veglia coscienza e comportamento al sonno cioè quando si crea un pensiero che parla per immagini e è sorprendente quanto anche qui diciamo in questo concetto si faccia l'idea si faccia strada l'idea della fantasia di sparizione e infatti Massimo lo scrive scrive alla nascita posso parlare di trasformazione ecco allora la liaison che non sia simile simile sotto l'indicazione di queste parole a quando uno va a dormire che questa cessazione della coscienza del linguaggio articolato eccetera sia legata non alla pulsione di annullamento che fa il vuoto ma sia legata alla fantasia di sparizione ovvero è un'identità e Diletta ci ha parlato della svolta storica che ha avuto non parlare di pulsione di annullamento alla nascita ma parlare di fantasia di sparizione e ecco che anche qui nel sonno non si crea un vuoto ma si crea qualcosa di nuovo anche qui infatti in qualche modo si fa una fantasia di sparizione perché si fa sparire quello che è il mondo della veglia della coscienza della ragione e si crea un pensiero fatto totalmente di immagini personali e nuove quindi anche qui si fa una capacità di immaginare e questo conferisce agli uomini la capacità di essere creativi tutti tutti possiamo essere creativi secondo quanto dice fagioli non solo gli artisti come Picasso Montale e scrive è da prendere questa parola così tanto denigrata trasformazione e accettarla come possibilità dell'essere umano di trasformarsi invece che in pazzo dissociato e magari violento in si può dire artista perché abbandona il linguaggio articolato per parlare solo con l'immagine e anche qui Massimo fa anche in questo caso una riflessione sul tempo perché ci spiega che mentre uno dorme scompare il rapporto con lo spazio insieme alla ragione alla coscienza eccetera e rimane soltanto il rapporto con il tempo quindi in questo tempo di 8 7 ore di sonno si ricrea la nascita come se ogni volta che uno si addormenta si prendesse un rapporto non cosciente con il tempo interno come è stato per la prima volta quando siamo nati e legata diciamo alla trasformazione di cui stiamo provando ad approfondire oggi non si può non dire una cosa cioè che Massimo quando parla di inconscio pensiero irrazionale trasformazione linguaggio per immagini gli viene si lascia sempre venire in mente la parola diverso cioè si lascia sempre trasportare da questo rapporto con il diverso e nella ricerca fatta in queste lezioni ma anche in tutta la sua vita personale lui si è sempre lasciato ispirare dal rapporto con la donna e anche forse anche qui penso che sia corretto parlare di fantasia e disparizione nel rapporto uomo-donna perché anche nel rapporto sessuale non si fa forse una fantasia e disparizione e ci si trasforma anche lì si abbandona si mette da parte si fa sparire il mondo delle cose delle logiche della ragione del linguaggio articolato per creare qualcosa di nuovo e questo non è forse ancora una volta quello che ha strettamente a che fare con la sensibilità della pelle con una pelle diversa e questa sensazione con una pelle altra ricrea quella capacità di immaginare una sensibilità di cui abbiamo parlato alla nascita e quindi anche in questo rapporto intimo la sensibilità della pelle si lega al sentire la propria ed un'altra realtà interna con cui si ha rapporto e si crea qualcosa di nuovo e anche qui forse questa me la concedo io perché Massimo non la fa però si potrebbe fare una riflessione sul tempo perché penso che sia possibile dire che anche nel rapporto il tempo materiale delle lancette dell'orologio si ferma e anche il rapporto con lo spazio cessa per cui uno non sa più dove si trova c'è solo il sentire un tempo interno e poi l'ultima riflessione perché Diletta me l'aveva un po' lanciata all'inizio è la riflessione sulla copertina di questo libro che sicuramente sono d'accordo con te quando hai detto che è un'immagine che esprime un pensiero un pensiero profondo vi dico che non sappiamo questa copertina quando risale non sappiamo Massimo quando l'ha fatta non sappiamo neanche in realtà perché è stata scelta è stata scelta così per una sensazione però siccome oggi abbiamo parlato tanto di sensazione di sensibilità ci affidiamo a questa cosa e ci vogliamo diciamo credere e vi dico anche che io ho deciso di parlare diciamo del concetto di fantasia di sparizione legato proprio alla trasformazione eppure perché ho visto questa copertina e perché perché vedere questi rettangoli in movimento l'uno dietro all'altro che diciamo all'esterno sono simili cioè sono sempre rettangoli magari cambiano nelle proporzioni ma sono simili però internamente hanno disegni tutti diversi tra di loro a me ha fatto proprio pensare a questo divenire della realtà umana e a questa possibilità di trasformazione interna e di creazione poi di qualcosa di completamente nuovo che come abbiamo visto oggi trova proprio le sue radici nella fantasia di sparizione grazie grazie a tutti 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 grazie per essere venuti e per aver trascorso questa mattinata di domenica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie. 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 Grazie.